Un brand che ci portiamo dietro per tutta l'Italia, questa volta a Venezia in un evento molto particolare, una cosiddetta fiera d'elite, la grande soddisfazione per questo momento perché abbiamo assistito alle selezioni di nostre cinque aziende che si è svolta e verificata durante la nostra partecipazione a tutte le fiere dell'anno scorso. Quindi il momento è veramente importante perché finalmente possiamo portare alto il buon nome della nostra provincia con aziende che sono all'altezza della situazione e che sicuramente ancora una volta sapranno distinguersi in un settore così importante che è quello della nuova astronomia. Un settore che veramente anche noi come attività produttiva e come amministrazione in generale abbiamo attenzionato in maniera particolare pur se con tanti sacrifici, avete sentito prima il direttore generale pure dell'ENTA che vi parlava dei numerosi tagli che abbiamo subito ma nonostante ciò tra le tante iniziative portate avanti da questa amministrazione abbiamo pensato di dare e far avere un ruolo importante ai nostri imprenditori del settore per un rilancio veramente di quella microeconomia che sicuramente può dare una boccata d'ossigeno a tutto il nostro territorio. Grazie. Grazie.